La strategia del produttore cinese ZTE è chiara, prima arrivare nel cuore del grande pubblico con alcuni prodotti mainstream e poi puntare in alto fino ai top di gamma. I primi passi di questa strategia passano attraverso la collaborazione con importanti marchi. Abbiamo parlato già diverse volte della collaborazione con 3 e abbiamo già visto un cellulare prodotto con il supporto di Momo Design. Anche ZTE Droid, MD Droid, appunto Momo Design Droid, è prodotto in collaborazione con la nota casa di design. Il produttore cinese ha cercato di produrre un cellulare che pur proposto dall'operatore 3 con i suoi piani ricaricabili a 0 euro fosse di design e avesse caratteristiche interessanti. Una delle caratteristiche più interessanti di questo prodotto sicuramente sta all'interno della scocca. Andando ad aprire la scocca, una scocca in materiale plastico con una finitura abbastanza buona e la scritta Momo Design, troviamo infatti una batteria da 1650 mAh. L'autonomia è uno dei punti di forza su cui ha voluto puntare molto ZTE per questo cellulare. Avere una batteria così grossa porta anche a un rovescio della modaglia evidente, che è lo spessore del terminale che supera i 10 mm. Anche il peso è abbastanza importante, infatti ferma la bilancia a 130 grammi. Si tratta comunque di un cellulare che ha alcune caratteristiche interessanti, oltre a quelle della batteria di buona capienza. Innanzitutto ha un display da 4 pollici con risoluzione 800x480 pixel. Il display a prima vista è di qualità, sembra un pannello abbastanza luminoso e con colori vividi e abbastanza ben definito. L'unico problema che ha è quello di avere un gap di aria tra il vetro e il pannello abbastanza evidente, il che porta a farlo soffrire di riflessi in modo molto evidente. Infatti in esterna o con luci come ad esempio il nostro faretto che ci punta contro, la visibilità del display cala in modo abbastanza importante. Arriva sul mercato con Android 2.3 Gingerbread, con una personalizzazione nell'interfaccia effettuata da ZTE Momodesign. Si tratta di una personalizzazione soprattutto grafica. Nell'home screen abbiamo il wallpaper di Momodesign, abbiamo delle icone personalizzate e abbiamo la possibilità, questo è abbastanza interessante, di scorrere tutte le pagine in modo continuo. Arrivati alla quinta pagina non bisogna tornare indietro per tornare alla prima, ma appunto si può scorrere in modo continuo. Abbiamo provato l'autonomia di questo terminale con i nostri test. Vi segnaliamo il test di autonomia in riproduzione video, dove il terminale si è piazzato al di sotto dei top di gamma, ma ha lasciato indietro diversi terminali di fascia media. ZTE Momodesign Droid è stato infatti in grado di riprodurre per 8 ore e mezza un filmato video in modalità Aureo a 100 nits di luminosità. Tra i dati di targa del terminale troviamo la connettività HSPA, Bluetooth e Wi-Fi, la fotocamera posteriore da 5 megapixel e quella anteriore per le videochiamate. Il giudizio finale su ZTE MD Droid è vicino a quello del fratello cinese Huawei Honor. Si tratta di due terminali con batteria abbastanza capiente, da 1600 mAh, che hanno dimostrato di avere un'autonomia buona per la fascia in cui si inseriscono. Sicuramente sono dovuti a scendere a compromessi entrambi sul fronte dello spessore e del peso. Sicuramente il prezzo a cui viene proposto il terminale è uno dei suoi punti di forza. La collaborazione con l'operatore A3 lo vede infatti a 0 euro a fronte di un piano di ricariche di 30 mesi a 10 euro al mese. Da ultimo notiamo come ZTE sta cominciando su questo tipo di terminali prodotti in partnership, ad esempio con gli operatori, a mettere il suo marchio. Si tratta appunto della strategia che dicevamo all'inizio, di cominciare a farsi conoscere e poi puntare fino ai top di gamma. Grazie. 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 Grazie a tutti.